In Vaticano, redattori e collaboratori della rivista che all'inizio si chiamava Le Missioni Cattoliche e oggi Mondo e Missione, mensile del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, che ha accompagnato la vita di generazioni di missionari, raccontando la Chiesa in uscita. Papa Francesco rievoca la storia trattieroica di uno strumento indispensabile per conoscere uomini e donne impegnati nell'evangelizzazione ad gentes, ma anche i paesi 150 anni fa considerati esotici dalla quasi totalità della popolazione. Reportage e testimonianze preziose, ricorda il Papa, che raccontavano le periferie geografiche ed esistenziali anche oggi ai margini. Le distanze si sono accorciate, è vero, ma le dogane ideologiche si sono moltiplicate. La sfida per la rivista è far conoscere la bellezza delle differenze, ma anche denunciare le storture di una società sempre più interconnessa, ma ugualmente ingiusta. Oggi tutti siamo preoccupati e è buono che così sia con una guerra qui in Europa, alla porta d'Europa e in Europa. Ma da anni che ci sono guerre, più di dieci in Siria, pensate allo Yemen, pensate al Myanmar, pensate nell'Africa, ma questi non entrano, perché non sono dall'Europa culta, le guerre dimenticate. Grazie. Grazie.